Buongiorno, benvenuti al TG2000, vediamo subito i titoli. Grande manifestazione dei sindacati a Roma, migliaia di metalmeccanici arrivati dalla Puglia, da Taranto per difendere l'ex Ilva. In Repubblica Ceca un uomo uccide sei persone in un ospedale, poi si toglie la vita. Si cerca un possibile complice. Terremoto al Mugello, almeno 600 persone hanno lasciato le proprie abitazioni per paura di altre forti scosse nella zona, scuole e uffici pubblici ancora chiusi. In apertura dunque la politica, con i tanti nodi ancora da sciogliere, a cominciare dalla legge di bilancio, il cui iter, sempre più complicato, comunque prosegue al Senato. Venerdì la prodo in aula e intanto il Governo fissa l'orizzonte per il 2023. Augusto Cantelmi. Un cronoprogramma a partire da gennaio per rilanciare l'azione del Governo. Il Premier Conte punta al 2023, alla fine della legislatura, ma chiede che le polemiche vengano messe da parte dopo la manovra. È il momento di cambiare passo, parola anche del segretario Dem Zingaretti. E poi sì, è giusto aprire una discussione, ha fatto bene il Premier Conte a rilanciare questa sfida, per costruire un'agenda del 2020 fondata sullo sviluppo, sul lavoro, sulla rivoluzione verde, sull'impegno sul digitale, sulla valorizzazione della scuola e della conoscenza. Ma i nodi da sciogliere sono tanti, a cominciare dalla manovra, il cui iter resta tortuoso e tempi stretti. In Commissione e bilancio si continuano a votare gli emendamenti per venerdì l'approdo in aula al Senato. Tra le novità alcune misure per tutelare i consumatori, dalle cosiddette bollette pazze e l'utente, anche il diritto ad un rimborso pari al 10% dell'ammontare contestato, previsto anche un aumento di 30 milioni del fondo disabilità e non autosufficienza. Altro tema ad alto rischio per il Governo resta il fondo salva stati. Si lavora la bozza di risoluzione in vista del voto parlamentare di domani, oltre a modifiche sulla ristrutturazione del debito per il Ministro dell'Economia Gualtieri. Non ci sarà alcun tetto per i titoli di Stato. Nodi da sciogliere dunque in un quadro complesso per l'Istat. A ottobre la produzione industriale è scesa dello 0,3%, del meno 2,4% invece rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Andiamo adesso a Piazza Santi Apostoli a Roma, dove è in corso la manifestazione indetta da CGL Cisle Will, che apre una settimana di mobilitazione. Nel cuore della capitale migliaia di operai di tante aziende in crisi, in particolare i metalmeccanici della ex Ilva. Ma colleghiamoci con Caterina Dall'Oglio che si trova sul posto. Buongiorno Caterina, ci racconti come viene valutato dagli operai dell'ex Ilva il negoziato che il governo sta portando avanti con Arcelor Mittal? Sì, buongiorno Leonardo, buongiorno a tutti i telespettatori. Come gli operai hanno giudicato chiaramente questo trattato con grande sfiducia. Gli operai che sono qui presenti ormai non si fidano più di nessuno per quanto riguarda la trattativa sull'ex Ilva. Vi voglio dare dei numeri, qui sono arrivati 20 pullman nella notte con un migliaio di operai da Taranto. Non si vedeva una partecipazione così grande perché come sapete gli operai di Taranto dell'ex Ilva sono fortemente radicati al territorio e generalmente le manifestazioni le hanno portate a termine proprio davanti alla fabbrica. D'altronde il piano che è stato presentato parla di 4.700 esuberi più 1.200 operai in mobilità che non rientrerebbero e quindi più di 6.700 persone che perderebbero il loro posto di lavoro a fronte di una produzione che da 4 milioni e mezzo di tonnellate passerebbe a 6 milioni. Quindi è un piano irricevibile per adesso dall'azienda senza che contare l'impatto ambientale. Noi questa mattina abbiamo incontrato diversi operai che hanno vittime in famiglia proprio per quanto riguarda l'inquinamento nella produzione dell'acciaio. Chiaramente Leonardo, come dicevi bene tu da studio, qui non ci sono solo gli operai dell'ex Ilva. ci sono 160 aziende, tavoli aperte al Mise con i diversi rappresentanti tra le più note, la questione all'Italia e Whirlpool che effettivamente hanno un nodo in comune con l'ex Ilva che è quella della partecipazione governativa. Allora nostro avviso molto puntuale è stato l'intervento del segretario della UILM, Rocco Palombella che abbiamo sentito pochi minuti fa. Vogliamo farvelo sentire e poi la Lina può tornare allo studio. Qualora effettivamente il contratto non venisse rispettato, proprio la peggiore delle situazioni possibili lei crede che l'intervento dello Stato sia l'unica via? Ma io ritengo che in questo momento qui, data la situazione così complessa l'intervento dello Stato sia necessario, anzi oserei dire indispensabile per poter cercare di accompagnare questa azienda a un piano industriale che prevede la salvaguardia dei posti di lavoro, la salvaguardia della produzione e soprattutto il risanamento ambientale e questo lo può fare solo con un intervento statale. E intanto per venerdì 13 dicembre è stato confermato lo sciopero dell'intero comparto aereo all'Italia che ha già deciso la cancellazione di 315 voli sia nazionali che internazionali. I vettori della compagnia di bandiera opereranno regolarmente solo nelle fasce garantite 7, 10 e 18, 21. L'invito della compagnia a chi ha acquistato un biglietto per volare il 13 dicembre oppure nella serata del 12 o la mattina del 14 e di verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi all'aeroporto. E' salito a circa 600 persone il numero degli sfollati dalla zona rossa di Barberino del Mugello decisa dai vigili del fuoco. Intanto la terra continua a tremare e le scuole in molte zone restano chiuse in via. Precauzionale. Letizia da voli. Dopo la grande paura di ieri è stata una notte tranquilla per gli abitanti del Mugello nel Fiorentino. Lo sciame sismico che ha seguito quella forte scossa delle 4.37 del mattino di magnitudo 4.5 ha portato repliche di intensità minore che non hanno causato altri danni alle strutture. 370 persone hanno comunque trascorso la notte nelle strutture di accoglienza allestite dalla protezione civile. Molti di loro sono residenti del centro storico di Barberino del Mugello, il più colpito dal sisma, le cui case sono state dichiarate inagibili. Altri però, pur potendo rientrare nelle proprie abitazioni, hanno scelto di rimanere in una zona sicura e assistita almeno per le prime ore successive alla scossa. Per fraffronte le necessità della popolazione sono stati allestiti in totale oltre 550 posti letto. I controlli sull'integrità delle strutture iniziati nei primi minuti dopo la scossa proseguiranno per tutta la giornata. In particolare su 330 edifici del borgo di Barberino, al centro della zona rossa evacuata nelle ore immediatamente successive al terremoto, ancora in attesa di essere verificati. Le lesioni presenti nella maggior parte dei palazzi dovrebbero essere gravi solo in pochissimi casi, permettendo a quasi tutti i cittadini di rientrare nelle proprie case, forse già da questa sera. Un uomo è morto carbonizzato nella sua autocisterna carica di gasolio che si è incendiata dopo aver travolto un carrello di segnalazioni lavori e poi un camion di alcuni operai che stavano effettuando dei lavori lungo l'autostrada A4. Tra i caselli di Padova Est e Padova Ovest è rimasto ferito il conducente dell'autocarro travolto, mentre sette operai strada autostradali sono usciti illesi. L'autostrada è rimasta chiusa per alcune ore. Torniamo adesso a parlare del drammatico scontro di domenica a Milano tra il filobus e un camion per la raccolta della spazzatura. Mentre le indagini vanno avanti emerge sempre di più la storia dell'unica vittima, una donna filippina che per vivere faceva la babysitter e poi mandava i soldi nel suo paese d'origine per aiutare la famiglia. Marco Bergamaschi. La procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale aggravato e lesioni colpose i conducenti del filobus e del camion dei rifiuti che si sono scontrati sabato mattina, l'incidente nel quale sono rimaste coinvolte in totale 18 persone tra le quali una donna deceduta per le conseguenze dello scontro. Si lavora per ricostruire la dinamica del terribile incidente registrato da alcune telecamere della zona. Stando alle prime ricostruzioni, l'autista del filobus dell'azienda dei trasporti milanesi che ha aperto un'indagine interna, sarebbe passato all'incrocio con il semaforo rosso. Ora si tratterebbe di capire i motivi di questa tragica disattenzione e per questo sono stati disposti accertamenti anche sul cellulare dell'uomo. A perdere la vita nell'incidente, Shirley Ortega Calangi, 49 anni di origini filippine, da 12 anni in Italia, era una babysitter come molte connazionali ed era ben voluta da tutti come hanno testimoniato i genitori dei bambini che accudiva che sono accorsi come gli amici subito al policlinico dove la donna era ricoverata e che fino all'ultimo hanno sperato che si salvasse. Proteggere, tutelare e promuovere tale patrimonio significa non solo preservare noi stessi e le nostre libertà ma soprattutto assicurare un avvenire di pace, sicurezza e sviluppo alle nuove generazioni, ai giovani, in particolare dedicata alla celebrazione della giornata dei diritti umani di quest'anno. Lo scrive il Presidente della Repubblica in un messaggio per l'anniversario appunto della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. La cronaca ci porta in Repubblica Ceca dove un uomo ha ucciso sei persone fuori da un ospedale e poi si è tolto la vita. Federico Plotti. Sono almeno sei morti e diversi feriti, alcuni in condizioni gravissime, in una sparatoria avvenuta questa mattina nell'ospedale universitario di Ostrava nel nord-est della Repubblica Ceca, a 300 chilometri dalla capitale Praga non distante dal confine con la Polonia. Erano circa le 7 del mattino quando un uomo è entrato in uno dei reparti ambulatoriali e ha aperto il fuoco apparentemente a caso. I sospetti degli inquirenti si sono da subito concentrati su questa persona immortalata dalle immagini riprese dalle telecamere a circuito chiuso dell'ospedale, quella che vedete in queste foto pubblicate poco dopo la sparatoria dalla Polizia Ceca su Twitter. Alto circa 1,80 m sulla quarantina, giubbotto rosso e nero. Dopo aver sparato e scappato via di corsa, una fuga che si sarebbe però già conclusa. Rintracciato dalla Polizia si sarebbe suicidato sparandosi alla testa poco prima che venisse catturato. Ancora si sa pochissimo, anzi nulla, sia sulla sua identità e soprattutto sui motivi che lo hanno spinto a fare irruzione nell'ospedale e a sparare contro diversi pazienti che aspettavano nella sala d'attesa il loro turno per essere visitati. Un aereo militare cileno con 38 persone a bordo è scomparso dai radar dopo essere decollato dal sud del paese per una base in Antartida. dell'aereo un C-130 Hercules decollato dalla base aerea di Punta Arenas nel sud del Cile alle 16.55 ha perso i contatti radio alle 18.13. Parliamo adesso del Natale, di come si orientino le scelte degli italiani in materia di alberi da addobbare, perché secondo la Coldiretti molti scelgono abeti veri. Fabio Bolzetta È la vigilia della solennità dell'Immacolata quando domani, da tradizione, le case si vestiranno dei simboli del Natale il presepe, ma anche l'albero, in casa e in città. 3 2 1 2 3 Il conto alla rovescia di fronte al Duomo di Milano Ma quanti sono gli alberi di Natale e quanto spenderanno le famiglie? A farne conti è l'indagine Coldiretti XE. L'albero naturale di Natale trova spazio quest'anno nelle abitazioni di 3 milioni e mezzo di famiglie che hanno speso, secondo l'indagine, in media 42 euro. Viene considerato irrinunciabile per l'88% delle famiglie, anche se oltre la metà degli italiani, il 55%, sceglie ancora l'albero sintetico, custodito magari nella propria cantina. Alberi veri sempre più piccoli, non solo per motivi economici, secondo Coldiretti, ma anche per la facilità di trasporto e per il minor numero di metri quadrati a disposizione nelle abitazioni sempre meno grandi. 2 1 Due giorni fa l'accensione dell'albero a New York, mentre tornando nel nostro paese, forse non tutti sanno che in Italia la coltivazione dell'albero di Natale è concentrata soprattutto in Toscana, nelle province di Arezzo e Pistoia ed in Veneto. Albero e presepe in questo avvento per illuminare il Santo Natale. Natale all'insegna della sostenibilità ambientale. Per la tavola dei giorni di festa, il 78% degli italiani sembra preferire solo piatti preparati con l'acquisto di prodotti alimentari essenziali. Tra i motivi della scelta, il 36% degli italiani afferma di considerare i benefici per la propria salute, mentre il 23% dichiara di voler contribuire al benessere degli animali. Parliamo adesso di fumetti e lo facciamo presentandovi una coppia davvero caratteristica. Il servizio di Luigi Ferraiolo. E' arrivato Samuel Stern nelle edicole italiane, un fumetto contro il male, un cacciatore di demoni molto particolare, che nella sua missione è affiancato da un prete, padre Duncan O'Connor, parroco cattolico a Edimburgo. E la coppia è subito diventata straordinaria, perché padre Duncan ricorda molto padre Brown, il sacerdote detective di G. Bert Cate Chesterton, che tanta fortuna ha avuto nell'ultimo secolo, mentre Stern è tutto da scoprire. L'unica certezza è che va oltre Dylan Dogg. Samuel Stern è uno di noi. Samuel Stern vive le paure che oggi attanagliano il nostro essere, al contrario di quelle che erano le paure fisiche degli anni 80 e 90, il mostro fisico al di fuori della porta. Le paure di oggi sono molto più fumose, molto più intangibili, e vengono da dentro di noi. Samuel Stern è la persona che può aiutarci a combatterle. L'azione delle storie di Samuel Stern si svolge a Edimburgo, nel cuore della Scozia più tradizionale. E già questa è la prima curiosità, perché non ambientare un fumetto del genere a Roma? Tanto più che Samuel Stern è creato da una nuovissima casa editrice capitolina, la Bugs Comics. Duncan O'Connor, il nostro prete cattolico che vive a Edimburgo, con origini diciamo irlandesi, ha avuto dei riscontri che possono essere paragonati a quelli di Samuel Stern. Il rispetto e l'approfondimento con cui abbiamo raccontato questo personaggio l'ha fatto subito amare dai lettori. È tutto, è il momento adesso di terza pagina. A voi tutti l'augurio di una buona giornata. Arrivederci. Grazie.